Sono ormai diversi giorni che nei commenti in calce a qualsiasi video commento su YouTube, su Twitch, ovunque, Instagram, tutti i social del mondo, riverbera una domanda incessante. E se 200 anni fa il frutto Nika si fosse risvegliato, siamo di fronte a un Joy Boy perduto che ai tempi ha risvegliato il robottone presente lì sull'isola del futuro, parliamone. Parliamone perché secondo me arrivati a questo punto serve fare un attimo mente locale su tutto quello che è il fumetto, quindi non Somobuta, non i vari influencer, commentatori, seriali o meno di One Piece. Dicono ma quello che ci racconta il fumetto per cercare un attimo neanche di venirne a capo ma di provare a dare una risposta a quello che potrebbe essere veramente accaduto. Posto che io veramente mi sono anche molto sorpreso dal fatto che molti non ritengono possibile che sia stato Luffy a svegliare il robottone grazie ai suoi tamburi della liberazione, io proprio fumetto alla mano vi voglio far vedere un paio di cose perché come vi ho anche raccontato diverse volte nel corso di questi mesi in alcuni video dedicati proprio alla grammatica del fumetto, ecco la grammatica del fumetto ha diciamo così degli strumenti molto particolari per farti capire in realtà che cosa sta accadendo. Allora proviamo ad analizzarlo, questa striscia finale totale tombale del capitolo 1093 dal punto di vista tecnico, che cosa vediamo? Vediamo un Luffy che è lì bello felice su questa torre, eccolo qui, dell'isola del futuro che dice che insomma oddio grazie vaffanculo Kizaru un altro po' stavo morendo perché ho dovuto riaffrontare la barriera e le onomatopee in questo caso non mentono, guardatele qui, ecco l'onomatopea del tamburo, poi Oda cambia, cambia totalmente scenario, inserisce questa piccola vignettina che in realtà fa parte di questa vignetta col robottone, però inserendo solo questa vignetta verticale, questa striscia ti fa capire non solo che è cambiato il setting, è cambiata l'ambientazione, ma tra questo momento e questo momento è passata questa unità di tempo ed è un'unità di tempo che serve alla musica del tamburo, della liberazione per arrivare alle orecchie del robottone, vedete tutum, tatam, tutum, tatam, cioè guardate qua, guardate anche dal punto di vista diciamo così del flow della narrazione, il tamburo della liberazione parte qui, poi tu l'occhio del lettore sale e va qui e poi va in giù e poi arriva qui, è come una sorta di serpente, è come una scia, è come una specie di fluido magico che arriva veramente ecco alle orecchie del robottone, tanto che il robottone si sveglia, ecco, quindi la grammatica del fumetto di questa striscia composta da quattro vignette ci dice che è proprio il robottone, proprio il tamburo della liberazione risvegliare il robottone, tanto è vero che il robottone si riaccende, si illuminano gli occhi, qui leonomatopea, anche se in inglese è molto chiara, è proprio come un'accensione meccanica, vedete questo che si riaccende, perché dico che la grammatica del fumetto non sbaglia? Perché da questa cosa qui ce l'ho già fatta vedere, ce l'ho fatta vedere esattamente nel capitolo 1043, capitolo leggendario, chiaramente dove noi vediamo, ecco, Rufi che è lì morto a terra, e anche qui vedete leonomatopee della musica, anche qui vanno a formare una sorta di fluido, guardate come funziona, ma qui che cosa succede? Zunesha ancora, dudum, 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 e è esattamente come il robottone, anche Zunesha si risveglia, i suoi occhi si illuminano, sta accadendo qualcosa, sta succedendo qualcosa di importante, però, da dove esce fuori questa faccenda che, insomma, il robottone potrebbe essersi svegliato 200 anni fa, perché magari c'è il Nika nascosto, c'è il Nika furioso di cui non conosciamo nulla. Questa roba qui salta fuori perché Vegapunk nel capitolo 1067 ci ha fatto tutta la cronistoria assoluta, definitiva, finale, totale, tombale del robottone. Qui era Vegapunk che spiegava che il robottone d'acciaio, il robottone di ferro fondamentalmente è quello che aveva attaccato Marijoa 200 anni fa, anche se è un robottone che è stato costruito nel regno antico 900 anni fa, non si sa per quale motivo stesse attaccando Marijoa, fondamentalmente non è stato in grado di fare danni perché la sua energia è finita. Addirittura poi il governo mondiale voleva che il robottone venisse distrutto, però gli scienziati hanno deciso di tenerselo lì bello al sicuro per studiarlo. E la cosa principale dal mio punto di vista è in realtà questa linea di dialogo, ovvero mentre si parla del robottone, mentre si parla di Egghead, Nick Robin fa una puntualizzazione molto interessante, diceva 200 anni fa è esattamente l'anno in cui c'è stata la questione della risoluzione definitiva, assoluta, totale, tombale degli uomini pesce, ovvero è l'anno in cui a livello formale, a livello formale, le discriminazioni riguardanti gli uomini pesce sono totalmente cessate. Ora, io, quantomeno io, arrivo a pensare che se Nick Robin fa un'osservazione del genere in un capitolo dedicato interamente al funzionamento del robottone, messo proprio in questo punto nevralgico della narrazione, della narrazione, può darsi che magari le due cose possano confluire, possano confluire. Questo perché io ormai mi sono fatto la mia idea che l'energia che fa andare avanti, ecco, il robottone che faceva andare avanti il regno antico possa essere la felicità, la gioia, oppure anche, ecco, grazie al tamburo della liberazione, la musica, un'emanazione che non si riesce a capire. Rufi, lo dicevamo nell'ultimo videocommento, è un dio, è l'incarnazione del dio, quindi la sua potenza è fuori misura. Essendo un'incarnazione del dio, lui da solo riesce a infondere l'energia al robottone, riesce a risvegliare la coscienza di Zunesha, riesce a fare tante cose, tante cose differenti. Quindi la sua potenza è totalmente differente da quella delle altre persone. Però, come dicevo, non solo nell'ultimo video, ma anche quando parliamo proprio del capitolo 1067 ai tempi, è tanto difficile arrivare a credere che un popolo che è stato sottomesso per centinaia, centinaia, centinaia di anni, nel momento in cui formalmente, formalmente, poi sappiamo che le discriminazioni degli uomini pesce sono andate avanti, però nel momento in cui formalmente è diventato libero dal gioco della schiavitù, può aver generato in tutto il mondo una quantità di energia tale da arrivare a risvegliare il robottone che per un periodo di tempo è riuscito addirittura a assaltare Marigioa? La mia risposta, al momento, sulla base di quello che mi racconta il fumetto, potrebbe essere tranquillamente sbagliata, è assolutamente sì. Cioè, quindi, apparentemente, ecco, questo Joy Boy di 200 anni fa, di cui non si conosce nulla, dal mio punto di vista non esiste, perché al momento non ci sono prove concrete del fatto che potesse esistere, sia esistito un Joy Boy 200 anni fa. E questa storia, fondamentalmente, ce la racconta anche, proprio di nuovo, Zunesha. Se un Joy Boy fosse esistito 200 anni fa, magari, ecco, Zunesha se lo sarebbe ricordato, perché lo dice proprio, sento i tamburi della liberazione, Joy Boy è qui, li sento, insomma, tambureggiare per la prima volta da 800 anni a questa parte. E anche gli astri di demenza, anche se non dicono in questa vignetta, in queste due vignette, che il frutto non si risveglia da 800 anni, ma di nuovo, noi dobbiamo sempre pensare che tutto quello che raccontano i cinque astri di demenza qui sia collegato a quello che poi Joy Boy, scusami, Joy Boy, quello che poi Zunesha ti racconta nel capitolo 1043, e che prosegue con il pippone che gli astri di demenza fanno nel capitolo successivo, nel capitolo 1044, è il fatto che questo frutto, apparentemente, apparentemente, non si è mai risvegliato negli ultimi 800 anni, è che l'ultimo, l'ultimo Nika prima di Rufy è proprio Joy Boy. Questo cancella totalmente l'idea che sia possibile che esista un Joy Boy nascosto dalla storia che si sia risvegliato 200 anni fa? Chiaramente no, siamo nel mondo di Buon Pista, tutto è possibile. Però gli elementi a nostra disposizione ci dicono che forse avrebbe anche poco senso oggi, come oggi, discutere dell'esistenza, ecco, di un Joy Boy di cui nessuno ne sa praticamente nulla e infilarcelo così a random. Sarebbe invece molto più interessante, per chiudere tutta la faccenda, se proprio il risveglio del robottone di 200 anni fa avesse a che fare con la liberazione degli uomini pesce, con il giubilo della liberazione degli uomini pesce, soprattutto se, come mi auguro, ma se poi non dovesse essere così, pazienza, ce ne faremo una ragione, io sarei anche più contento, se effettivamente questa energia del regno antico avesse a che fare con qualcosa di emotivo che può essere il sorriso, la risata, la felicità, la gioia, la musica, il tamburo, dei kit e stramorti. E questo è. Però, fatemi sapere voi che cosa ne pensate, lasciandomi il sempre più eterno commentino qui sotto su YouTube, sulla mia pagina Instagram, Somobuta, e noi ci vediamo la prossima volta. Se siete arrivati alla fine di questo video, hashtag 200 anni fa era meglio. Così. Un bacio. Ciao.